Sono innamorata di questa città, quindi la prima cosa è l'amore per la città dell'Aquila e voglio portare l'Aquila in tutto il mondo come falla rinascere da questo bellissimo edificio che ci hanno dato, quindi ringraziamo anche la regione Abruzzo perché da qui vogliamo portare Tindora proprio per il mondo con un prodotto che è l'oro dell'Aquila, quindi è un portafortuna per noi. Ecco sicuramente un prodotto che è un'eccellenza del territorio ma un amore per il territorio che si mostra anche attraverso altre azioni che fanno parte di questo progetto che crea lavoro non solo nell'azienda appunto come ha raccontato anche suo figlio ma anche per il sociale lavorando proprio sul territorio di Navelli. Sì, da quando ho iniziato l'attività ho pensato soprattutto ai ragazzi perché a parte Matteo ho anche un altro ragazzo e quindi non è bello portare i nostri ragazzi fuori da questa bellissima realtà. Abbiamo avuto il terremoto ma noi siamo forti e gentili quindi ce la potremmo fare tutti insieme, quindi abbiamo pensato di dare una parte del ricavato del nostro prodotto per incentivare le start up giovanili, quindi il consorzio di Navelli darà come prestito d'onore i bulbi che acquisterà con il nostro ricavato e quindi speriamo di poter aiutare questa città a far nascere tanti imprenditori. Io vorrei trasmettere questo messaggio, l'Aquila ha bisogno di imprenditori, se noi ragazzi li educhiamo oltre che a mandarli a scuola poi li educhiamo anche nell'imprenditoria, io penso che possono avere tanti successi e tante soddisfazioni come l'ho avuto io. E poi ecco il nome dell'Aquila, l'Aquila che gira non solo a livello nazionale e europeo ma nel mondo insomma, ha ricevuto una chiamata da Dubai. Oggi grazie a tutta la pubblicità che abbiamo fatto ieri con la conferenza stampa, mi hanno chiamato da Dubai complimentandosi per il progetto e ci stanno aspettando perché possiamo portare i prodotti anche lì. Poi avete visto abbiamo un direttore bravissimo, un direttore commerciale che ha già i ganci in tutta Europa, quindi mi auguro che questo sia l'inizio di una lunga strada, ma soprattutto per mio figlio e per i ragazzi giovani come lui. Grazie a Fiorella Bafile in bocca al lupo. Crepi lupo e grazie a voi. L'idea è nata a me e mia madre, l'imprenditrice Fiorella Bafile, abbiamo deciso di investire su questo territorio e investire su un qualcosa di nuovo e di particolare. Visto che noi abbiamo un prodotto molto importante all'Aquila che è lo zafferano d'oppe di navelli, riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo, abbiamo deciso di far studiare questa sostanza e di far realizzare delle creme completamente biologiche a base di zafferano di navelli e di altri cipienti. Sì, siamo soddisfatti dell'affluenza che c'è stata e non vediamo l'ora di entrare in commercio con i prodotti. Quando entreranno in commercio? Allora, diciamo che gli agenti sono in giro da lunedì, non è ancora coperta tutta Italia, ma contiamo che entro fine settembre saranno coperte quasi tutte le città italiane e alcune europee. Ecco, la novità di questa linea è che non è soltanto Cosmesi ma è anche lavoro, si tratta di un'azienda Tindora che crea lavoro sul territorio e per il territorio, insomma un amore per questa terra e per i prodotti tipici, le eccellenze, no? Dici bene Alessia, noi abbiamo scelto di rimanere qui e di investire qui anche con tutte le difficoltà, come ben sai, legate al post-sisma. Abbiamo assunto già due persone, ma abbiamo l'intenzione di assumerne molte di più, per il momento ci occupiamo del confezionamento, della sigillatura delle scatole, della commercializzazione, in seguito vogliamo estendere anche alla produzione dei prodotti, quindi tutta la filiera che comporterà un tot di persone assunte. Grazie Matteo, ti lasciamo alla serata. Grazie a voi. È una sfida che io e Fiorella abbiamo deciso di accettare qualche tempo fa e come tutte le sfide si programmano in qualche modo, poi si gioca e perché no, si vince, quindi sono qui anche per questo. Da domani Tindora entrerà nelle grandi profumerie e farmacie di tutta Italia, d'Europa e nel mondo, ecco perché teniamo anche a dire questo. E come dicevo prima, è un messaggio che porteremo in giro per il mondo dell'Abruzzo, di questo cuore verde d'Europa, quindi è molto importante per tutti quanti noi. È una pubblicità molto forte e soprattutto è la prima volta che lo zafferano sposa il mondo della cosmetica ad altissimi livelli. Noi siamo un'azienda biocosmetica, biotecnologicamente avanzata, guardiamo il futuro ma soprattutto partiamo dal passato, tuteliamo il passato, come dicevo prima. È molto importante per noi, quindi è una sfida, l'abbiamo accolta e si vedrà. Ecco, è un po' un raccontare la storia di questo territorio, di queste tradizioni che, insomma, il zafferano all'Aquila ha esistito da tantissimi anni e soprattutto è stato motivo di ricchezza per la città. Certo, assolutamente, è stato motivo di ricchezza, lo è ancora dal punto di vista gastronomico e anche medico, clinico. Cosmetico siamo i primi, quindi ci fa piacere dirlo perché è un nostro plus importante, quindi perché no, portare anche nel mondo la cosmetica dello zafferano, ripeto, è una sfida, si vedrà. Quali sono le proprietà dello zafferano, alcune delle proprietà? È un antiossidante, è un antiossidante con l'effetto della crocina che è contenuto nello zafferano, ma soprattutto nello zafferano di Navelli. Precisiamo questo perché la crocina ce l'hanno tutti, però lo zafferano di Navelli ha una proprietà, ha una concentrazione di crocina molto molto più alta rispetto a tutti gli altri. Per cui spegniamo anche questo plus, molto importante. Grazie direttore. Grazie, buona serata. Qui sono cresciuta, qui ho studiato e è una terra che trovo bellissima, non solo per le persone che ci vivono, ma anche per i frutti che riesce a tirar fuori dalla terra. Questo in particolare, lo zafferano, è uno dei più, se vogliamo, dei più alti, dei più belli che abbiamo. Mi ha colpito molto vedere, sono stata appunto questa sera alla presentazione, mi ha colpito molto vedere l'amore con il quale Fiorella, ma tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto hanno messo in piedi questo piccolo miracolo. Perché questo è un progetto che nasce da, se vogliamo, anche da un periodo che ha passato la città veramente di difficoltà e invece sono i sognatori che sono partiti dalle macerie e stanno costruendo e portando l'Aquila veramente a volare. Sono contenta di essere ospite questa sera, ho seguito da dietro le quinte tutta l'elaborazione di questo progetto attraverso mio fratello Massimo che ha curato la grafica, il concept. Per cui ci sono affezionata, in qualche modo mi sento osservatrice, attenta e sosterrò questa campagna. Grazie Simona Molinari Grazie, ciao Ci ha raggiunti anche il sindaco di Navelli, Paolo Federico. Navelli oggi è un po' la celebrazione di questo territorio, dell'Aquilano. Si è parlato durante l'incontro di l'Aquila come città-territorio. Perché? Perché? Perché l'Aquila nasce dall'unione di 99 castelli di cui Navelli è stato uno di quelli che l'hanno fondata e credo che questa città ha avuto un'importanza storica forse proprio perché è stata creata da 99 piccoli castelli e hanno cercato tutti insieme sempre di dare un'importanza a questa stupenda città con l'economia, con tutto ciò che ruotava poi storicamente intorno a una città peraltro la più importante dopo Napoli del regno delle due Sicilie, del meridione. Quindi, che dire, oggi l'Aquila deve riconquistare quella città-territorio. Credo che ci siano tutti i presupposti e il mio amico Pierluigi Biondi sta facendo un ottimo lavoro. Noi sindaci del territorio siamo consapevoli che soltanto così potremmo e possiamo riacquistare un'importanza anche per rivitalizzare questo territorio. Perché purtroppo iniziative come quella di questa sera possono fare la differenza perché oggi non ci sono più le condizioni per grossi insediamenti industriali. Quindi cosa dobbiamo puntare? Dobbiamo puntare alla storia, alla cultura, alla gastronomia, ai prodotti di eccellenza come lo zafferano che credo non dobbiamo aggiungere nulla. Il zafferano top dell'Aquila è il miglior al mondo in assoluto, prodotto da Navelli all'Aquila in un territorio vasto e variegato e che dire, andiamo avanti così. Questa iniziativa è molto importante non solo per la cosmetica che è comunque di alta gamma ma soprattutto perché crea lavoro, perché crea lavoro come azienda e poi c'è un accordo che è stato firmato proprio con il consorzio e la cooperativa di Navelli. Allora io credo che l'iniziativa è una triplice valenza. Intanto riporta un po' come nella storia un prodotto che anticamente veniva usato fondamentalmente come corroborante, come prodotto curativo per la pelle. L'ho citato prima, già Cleopatra usava lo zafferano per questi scopi. Ma ecco, ha tre valenze dal mio punto di vista. Uno, quindi riportare lo zafferano anche nella cosmesi di altissima qualità, non può essere diversamente con il miglior zafferano al mondo. Due, produzione di lavoro, produrrà posti di lavoro sulla città dell'Aquila dove si insedierà lo stabilimento. Tre, una parte dell'utile del ricavato di questa iniziativa andrà a finanziare attraverso il consorzio di tutela zafferano-doppi dell'Aquila la possibilità di dare finanziamenti ai giovani per rimpiantare lo zafferano. Quindi un beneficio per tutto il territorio. Meglio di così non si possa volere. In bocca al lupo a Tindora e a tutto il territorio della città dell'Aquila. Questa unione di tradizione, di storia e di cosmetica, di bellezza. Sì, sono particolarmente contento dell'iniziativa imprenditoriale perché vuole valorizzare tutto il territorio, lo zafferano che è il fiore all'occhiello della produzione di tutto il territorio aquilano perché lo zafferano si produce in tutti i comuni della zona dell'Aquilano, da Navelli all'Aquila inclusa, con un'attenzione particolare da parte di un imprenditore privato che ha a cuore il territorio, che vuole portare la città dell'Aquila in tutto il mondo con un prodotto di alto livello di qualità, così com'è lo zafferano come materia prima, lo saranno i cosmetici della Tindora e un'attenzione particolare anche dal punto di vista sociale perché la Tindora ha con noi un accordo per cui non solo utilizzerà il prodotto di uno dei nostri consorziati, la cooperativa Alto Piano di Navelli che è il maggior produttore di zafferano nella zona di tutto l'Aquilano con sede a Navelli ma ha di sua iniziativa, quindi da parte di un privato, voluto dare un incentivo alla produzione che negli ultimi anni è in calo, non c'è ricambio generazionale, non ci sono molti giovani disposti a coltivare lo zafferano e la Tindora darà una percentuale delle proprie vendite, quindi una percentuale di ogni confezione venduta sarà utilizzata, sarà devoluta alla cooperativa Alto Piano di Navelli per l'acquisto di bulbi per nuovi giovani produttori, quindi un duplice aiuto alla produzione di zafferano, non solo l'acquisto ma anche incentivo alla produzione e appunto sottolineo venendo da un privato è doppiamente da lodare. Ecco poi c'è il lato appunto della produzione, una riscoperta di questo che comunque è un mestiere anche difficile perché durante l'incontro se ne è parlato, insomma non è semplice la coltivazione e poi la raccolta dello zafferano. Sicuramente come tutti i lavori della terra non è semplice, ci sono molte fasi della lavorazione che avvengono tuttora, solo manualmente per cui non è possibile utilizzare macchinari e richiede ovviamente il contatto con la terra che non sempre è ben accetto, soprattutto le nuove generazioni, però sottolineo che è un prodotto che rispetto ad altri prodotti della terra grazie alle sue qualità particolari ha un mercato di alta fascia per cui il suo prezzo ripaga altamente la produzione. Bisogna scommetterci, bisogna impegnarsi, bisogna lavorare, però rispetto ad altre materie prodotte dalla terra dà anche i suoi frutti. Inoltre si lavora solo in determinati periodi dell'anno, quindi chi vuole avviare nuove produzioni può contattarci per avere un aiuto concreto. È importante per il benessere, parlavamo prima durante l'incontro, lo zafferano non è solo per la linea cosmetica ma ha dei principi attivi che fa molto bene in quanto direttore appunto dell'ASL non poteva mancare. Beh, direi che in effetti l'iniziativa è particolarmente rilevante, ovviamente qui non sono rilevanti gli aspetti della sanità ma gli aspetti della cosmetica che comunque in alcune particolarità hanno rilevanza. È importante che nasca questa azienda prettamente nostra, della nostra provincia, della nostra città che si occupi, questo è bello sottolinearlo, del benessere della gente. Benessere della gente quando sta bene, noi abbiamo poi il problema di fare in modo che la gente venga trattata bene abbia delle prestazioni di qualità quando sta male, quando ci sono situazioni di emergenza, urgenza e anche in un momento come questo, molto carino, molto gradevole, molto particolare, non dobbiamo mai dimenticarlo. Grazie direttore. Ciao, grazie. Ho ringraziato Fiorella Bafile per l'invito, per il lancio di questa nuova linea di cosmetici. Siamo sull'alta gamma, siamo sulla biotecnologia, quindi mi ha fatto piacere essere qui a parlare di bellezza, parlare di prevenzione, di profilassie, di tutti quelli che sono i processi legati all'invecchiamento e di guardare sempre una bellezza equilibrata, di non strafare mai, di partire dalla cosmesi e di non eccedere con la medicina e con la chirurgia estetica. Noi facciamo il nostro, però a volte anche il chirurgo estetico esagera, esagera la ricerca della perfezione. Invece il trucco è sorridere, guardarsi la mattina allo specchio, farsi un bel sorriso e partire. Dopodiché noi ci siamo, siamo presenti come medici, chirurghi estetici, come prodotti cosmetici, però il bello è sentirsi belli dentro, perché se tu ti piaci e ti senti bello dentro, sei bello per tutti. Questo è il messaggio. Ecco, poi ha dato una notizia che ha un po' lasciato perplessi quasi il pubblico. L'età di invecchiamento, cioè si inizia ad invecchiare a 25 anni. Sì, a 25 anni iniziano i processi di invecchiamento, biocellulare, è vero. Sono lentissimi, ma quella è l'età in cui cominciamo a invecchiare. Però poi la genetica fa la sua, eh. Ci sono persone che a 50 ne rimostrano 30, 40, o persone che se hanno uno stile di vita scorretto o non proprio ideale, ne rimostrano 70. Quindi l'età biologica è fondamentale, perché è quella che ci protegge. E sull'età biologica però interferiscono i fattori esterni che sono, ecco, il sole, il fumo, un cattivo stile di vita, l'alcol. Quindi un connubio, un bellissimo mix tra biologia, cellulare e poi ambiente è quello che ci rende, chiamiamoli, giovani. Però l'importante resta il sorriso. L'importante resta il sorriso. Il sorriso è guardarsi e sorridersi. Perché se ci sorridiamo a noi stessi, poi io guardo a te e sorrido. Grazie, grazie. Non potevo mancare a Rezafferano, questo prezioso frutto della terra, della nostra terra. Io sono di Ascoli Piceno, quindi vi guardo oltre i nostri sibillini. Siamo un territorio, un territorio forte. E proprio da questo territorio siamo a rappresentare la dieta mediterranea, ma quella con la D e la M maiuscola, quella vera, quella dei nostri genitori e dei nostri nonni. Dove proprio, pensa, un cibo semplice, un cibo della terra come lo zapperano, invece oggi lo ritroviamo protagonista e re negli scaffali dell'alta cosmaceutica. Perché qui non si parla solo di bellezza e di cosmesi, ma proprio di benessere della pelle. E come dicevo nel mio intervento, perché no, da unirlo alla ricetta più internazionale che ha lo zapperano, con un prezioso risotto. Quindi inside, dentro, utilizzare tutte le proprietà straordinarie, uniche, per presenza di betacarotenoidi, proprio un concentrato di mille carote. Consentimi questo parallelismo. E ora, questa idea geniale, l'uovo di colombo, no? Ma se fa così bene dentro, sulla nostra cute, che effetto farà un effetto straordinario. Quindi, benvenuta a Tindora, benvenuta nel nostro quotidiano. Grazie, dottore. Prego. Noi abbiamo curato, diciamo, un po' tutto dal parere al branding. Quindi, quando Fiorella mi ha chiamato, c'era questa idea, che non era nulla. Quindi, di fatto, abbiamo pensato il nome, i colori, i pelaconi, le scatole, il sito, il video. Insomma, io, in questa feste, sono stato proprio un direttore creativo di tutto il progetto. Penso che sia stato un successo. È un progetto bellissimo per l'Aquila, che veramente riesalta tutta questa cosa che noi non sappiamo ancora bene vendere, che è l'aquilanità bella. e finalmente un'imprenditrice come Fiorella si è messa, diciamo, anche il figlio, appunto. Matteo e Fiorella sono rimasti qua per fare questa cosa, quindi per me è stato bellissimo farlo. La mia azienda si chiama Climax Studio, è una piccola realtà che sta nascendo da poco, in realtà. Quindi abbiamo di base l'Aquila, ovviamente ci muove in tutta Italia, e facciamo questa roba qua. Quindi questo concetto di branding, cioè prendere un'azienda e curarla da 360 gradi, quindi dalle un'anima, dai colori, che magari spesso capita che qualcuno, non so se vi interessa, io ve lo dico, però magari capita che un'azienda viene, ha già un brand fatto in un certo modo, un logo fatto in un certo modo, una pagina Facebook fatto in un certo modo, il sito fatto in un altro modo, e poi il video non si incasta o il sito non si incasta, allora questa nuova idea di comunicazione è di prendere un brand da capo e realizzarlo ad hoc su tutti i fronti, e quindi combacia a 360 gradi. A 360 gradi appunto, partendo però dall'Aquila, da quel concetto che è l'aquilanità, che un po', diciamo che in questo territorio si era quasi dimenticato, in questo forse dal 2009 è tornato nella mente di tanti aquilani. Sì, questa cosa, ripeto, io sono uno di quelli che è rimasto, mi hanno sempre detto, ma tu nel tuo lavoro non puoi rimanere all'Aquila, non lo puoi fare, perché sì, sei scema, Roma, Tosavella, Milano, le cose. In realtà, ragazzi, io credo che l'Aquila ha un potenziale, ma non lo dico perché l'ha detto per retorica, lo dico perché ci credo fortemente, l'Aquila ha un potenziale inespresso, eccezionale, dal punto di vista territoriale, dal punto di vista di prodotti, dal punto di vista anche paradossalmente di mentalità, quindi se c'è questa capacità, come si iniziano finalmente a intravedere, sia come questo spazio che nasce, sia come queste aziende che rinascono, sia come noi che come la mia azienda che rinasciamo, probabilmente una piccola speranza l'abbiamo, io, ripeto, ci credo fortemente, penso che oggi un piccolo punto l'abbiamo messo. Grazie. Grazie a te, stavo gentissimo, grazie. Io penso che sia un'idea straordinaria, intanto ruota attorno alla forza dello zafferano, hanno detto benissimo loro in questa serata quanto questo sia importante, quanto anche serve a riconnettere la città con il suo territorio. Quello però che mi fa piacere è che, oltre alla potenza e alla straordinaria capacità di Fiorella, c'è anche l'impegno di Matteo, suo figlio, che è un ragazzo di 28 anni, che ha deciso di restare qui, di investire in questa città. E a fianco a questo c'è stata anche la gestione comunicativa di un gruppo di giovani talenti di questa città, capitanati da Massimo Molinari, che è stata la società che ha in qualche modo dato vita al comparto pubblicitario. Anche loro un gruppo di giovani che hanno deciso di restare qui in questa città. Penso che questa serata, Tindora, questa meravigliosa anche location che ci ha restituito l'emiciclo, racconta un po' la città che riparte, la città che in qualche modo torna a volare. Per me è stato un onore partecipare, ho trovato la scelta di dare allo zafferano un'altra veste, non soltanto quella che tutti conosciamo che è la veste gastronomica, ma anche questa nuova piega che è quella della Cosmesi, un prodotto di grande qualità, raffinato, elegante, che parte dall'Aquila e che racconta l'Aquila. Quindi, insomma, è una di quelle serate che fa tornare il buon umore a stare in questa città. Poi ci potrebbe essere un ritorno in termini di promozione, oltre che economico, appunto per l'intero territorio? Beh, assolutamente sì. Prima, durante la presentazione, Fiorella, che è la straordinaria imprenditrice che ha dato vita a questo progetto, spiegava che già soltanto guardando sull'Ansa la pubblicità della ditta di Tindora, hanno avuto già un contatto da Dubai. Quindi un'internazionalizzazione della città dell'Aquila, di questo prodotto. È evidente che iniziative di questo genere non soltanto creano un modello, cioè danno in qualche modo il coraggio anche ad altri di investire in questa città e di restare qui a vivere, ma è anche un volano per far conoscere l'Aquila fuori dai nostri confini, fuori dall'Italia, ma direi anche fuori dall'Europa, e di internazionalizzare la nostra città. Grazie Stefano Alman. Grazie a voi. Nei miei libri io parlo molto della mia città, ho sempre parlato di questo territorio e mi sono piaciute tantissimo le parole che ha detto Fiorella nel presentare l'azienda, la Tindora, fatta dal territorio per parlare al mondo con prodotti locali, in particolare lo zafferano, che non ha bisogno di essere conosciuto, perché dal 1200 è conosciuto in tutta Europa, venivano all'Aquila e nei nostri territori per poter avere questa preziosissima spezia. La serata è fantastica, dimostra la voglia di rinascere della nostra città, del nostro Abruzzo, l'Aquila ha ancora moltissimo da offrire, non soltanto agli aquilani e giovani che devono prendere spunto da questa vitalità, da Matteo che ha solo 28 anni e che ha deciso di restare qui, di fare l'imprenditore, c'è tanta voglia di fare, abbiamo tante potenzialità, ce la possiamo fare, quindi un in bocca al lupo a Tindora. Ecco, portare il nome dell'Aquila fuori è molto importante, con la perdonanza, insomma, che è un altro tema che lei ha trattato moltissimo, e anche Celestino V, insomma, nei suoi libri, nei suoi testi, nelle sue ricerche, è importante perché, portando alla ribalta questa città e il nome del capologo d'Abruzzo, in qualche modo si riaccendono i riflettori. Assolutamente, ed è questo l'intento. Io ho avuto l'onore in queste poche settimane di ricevere dapprima un premio nazionale alla cultura e adesso questo invito allo Svoleto Art Festival, tra l'altro del tutto inatteso, quindi ancora più gradito. Come ho già avuto occasione di dire, non sarò io solo con la mia presenza su quel palco che tra l'altro annovera veramente dei personaggi della letteratura importantissimi. Ma ci sarà la mia città, ci sarà il mio territorio, ci sarà Celestino V, la perdonanza, la basilica di Colle Maggio, è quello che dobbiamo sforzarci di fare tutti quanti, cioè soprattutto in questo momento in cui la perdonanza ha questa grande possibilità, ambisce a diventare patrimonio immateriale UNESCO nel 2019. E noi ci crediamo, ci crediamo e quindi esporterò un pochino, ci metto anche un po' di mio per cercare di far conoscere questa bellissima città e la perdonanza celestiniana.